Una puntata speciale, seguitela e poi mi ringrazierete, non posso anticiparvi altro Intanto però creiamo un po' di atmosfera, un'atmosfera come se fosse una vera festa popolare Quelle che a noi piacciono, che da 5 anni andiamo, filmiamo e poi ve le facciamo vedere Loro sono un gruppo, sono molto bravi, tutti vestiti a festa per l'appunto Sono gli ottoni animati! Terra 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 Nuova terra Una nuova terra è stata affittata, questa sarà sempre una grande giornata Sarà sempre questa e questa nuova terra, sì! Terra Una nostra gioia unica soprana, piena della musica che viene d'amore Parla di quei colori che circondano l'amore Grazie Grazie una nuova terra è stata pensata questa sarà sempre una grande giornata sarà sempre questa è questa nuova terra sì ora questa gioia è solo unica soprana vieni dalla musica che viene là fuori parla di quei colori che circondano l'amore e 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 ciao alessandro ciao grazie grazie quanti siete? allora noi siamo in 12 e siamo siciliani doc doc non hai portato due cannoli? certo che li ho portati ah normale potevamo venire a mani vuote ma dalla Sicilia dove? precisamente da Trapani ah da Trapani che è l'estrema punto occidentale della Sicilia bella bellissima allora ottoni animati queste misa a noi piacciono molto perché ogni giorno noi facciamo vedere le feste popolari più belle che ci sono in Italia da nord a sud le isole si e i costumi insomma richiamano un po' la nostra tradizione non tanto chi è il più bravo qui a suonare? la verità la verità devo dire la verità la verità nel mio cuore c'è lui c'è lui c'è lui c'è lui che è la voce chi è la voce lui è un arrangiatore un compositore è un factotum insomma sono in 30 ma lavora solo lui esatto ho capito questo allora scusate ottoni animati perché? perché il gruppo è composto prevalentemente da ottoni quindi da strumenti costruiti proprio in ottone soffia un po' bene animati perché come hai visto insomma non stiamo fermi insomma non mi sembra bene la marcia del sud grazie sul scusa posso il nostro cd è stato colonna sonora di linea blu per la scorsa stagione e lo potete trovare su ottoneanimati.it grazie ciao ottoneanimati.it grazie ciao buon rientro a Trattoli salutatemi da Sicilia ciao maxi